Venerdì 18 novembre, buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento della rassegna stampa di TRG. Parleremo dalle pagine nazionali di Cuneo Fiscale perché sembra che già dalla fine dell'anno ci saranno degli effetti importanti sui redditi con una manovra che il governo punta a mettere in piedi per poter innalzare il potere d'acquisto sia delle famiglie ma anche per poter aiutare le imprese in questo difficile momento. Poi chiaramente gli scenari della cronaca internazionale con la questione migranti che continua ad essere in primo piano e vedremo insomma anche la situazione ancora tesissima sul fronte ucraina. Dall'Umbria vi faremo sentire il report sull'economia Umbra della Banca d'Italia e parleremo anche di sanità con delle novità per la prenotazione degli esami. E allora partiamo proprio dai quotidiani nazionali, questo è il messaggero, l'apertura quest'oggi è dedicata ad un fatto di cronaca siamo a Roma, un serial killer a Roma, due donne cinesi e una colombiana accoltellate in poche ore nel quartiere Prati, erano escort e per gli inquirenti chi le ha uccise è la stessa mano. Slitta il tetto ai contanti, il limite a 5 mila euro sarà in manovra, intanto nel DL aiuti sbloccata la gronda, assegno unico verso l'aumento. Ancora c'è, lo vedremo nelle pagine di cronaca regionale, Assisi punta i cinghiali, anziano spara ai cacciatori, è stato denunciato ad Assisi un uomo di 78 anni che ha sparato a dei cinghiali nella sua proprietà rischiando però di colpire i cacciatori che erano in battuta di caccia. Andiamo al dorso nazionale della nazione, manovra come cambia la busta paga in tervista al ministro Crosetto, non possiamo fare altro debito, dobbiamo però assicurare aiuti a famiglie ed imprese. Nella legge di bilancio ci saranno 20 miliardi per attutire il caro Bollette. E poi chiaramente anche la nazione sul fatto di cronaca di Roma, sciocca Roma, tre prostitute uccise a coltellate in zona Prati, una stava aspettando un cliente, l'ipotesi che si tratti di un unico omicida. Dal dorso regionale della nazione la finanza scopre con l'elicottero un cimitero di carcasse, cup, ovvero le prenotazioni sanitarie, esami e visite si potranno prenotare dal medico, terni, risorse finite, l'emporio dei bambini rischia di chiudere. Andiamo a vedere alcune delle notizie in primo piano. Dunque questo è la nazione uccise a coltellate, siamo a Roma, tre prostitute trovate morte nel quartiere Bene, caccia al serial killer, le aggressioni sono avvenute in due palazzi del rione Prati, a pochi metri di distanza una da loro. L'ipotesi appunto è che si tratti per quel che riguarda l'assassino della stessa persona. E poi le nostre tasche, titoleremmo così, cuneo fiscale, ecco cosa cambierà, fino a 135 euro in più in busta paga, taglio del 2% entro la fine di quest'anno, della tassazione, un'operazione che il governo dovrà però finanziare con 4 miliardi, lo sconto sui contributi verrà per tutte le mensilità, compresa la tredicesima. E allora la detassazione andrà ad incidere per due terzi sulla busta paga del lavoratore, che quindi insomma sarà meno tassata, e per un terzo anche sull'azienda. Come previsto dal governo Draghi, si lavora per abbassare di altri 5 punti il cuneo fiscale. L'effetto sui salari di questa manovra, sotto i 35 mila euro, il guadagno sarà di almeno 1.200 euro in più all'anno, questo per aumentare il potere di acquisto di famiglie e anche ovviamente singoli. Altro argomento che ci riguarda da vicino, ovvero il problema dei migranti, blizza anti-scafisti, resta l'emergenza, sbarchi, piante dosi, rassicura Berlino, l'Italia starà alle regole, i trafficanti di esseri umani salpavano dalla Sicilia per la Tunisia, in 18 sono stati arrestati, l'intercettazione che ieri ha fatto il giro di tutti i media, l'intercettazione shock di una chiamata. Se ci sono problemi buttateli tutti a mare, l'assoluta inumanità, disumanità dei trafficanti che non si creavano problemi laddove ci fosse qualche difficoltà a gettare tutti quanti, chiunque essi fossero in mare. Ancora dalle pagine di interesse internazionale, in questo caso andiamo sul fronte della guerra Ucraina-Russia, offensiva diplomatica, Stati Uniti e Cina sono stanchi del conflitto, Zelensky dicono deve trattare. Ed ora veniamo a casa nostra, il Corriere dell'Umbria, proprio con gli immigrati, apre la sua pagina, cure agli immigrati ma lo Stato non paga dal 2017, la regione è in attesa di rimborsi per oltre mezzo miliore per le prestazioni sanitarie fornite ai clandestini. Perugia la finanza sequestra un cimitero di auto e poi siamo a Terni dove una dottoressa deve versare 300 mila euro all'ASL per danni causati ad un neonato nel momento della nascita. A Gubbio torna a risplendere un antico dipinto nella chiesa di San Marco, a Terni ritrova la madre dopo 60 anni, a Orvieto a Natale, cartellone con 60 eventi. Il dorso regionale della nazione, scoperto il cimitero delle automobili e poi la sanità, liste d'attesa, le tagliamo così dalla regione due progetti per cercare di stennellire i tempi della sanità. Il report, tra poco lo vedremo, della Banca d'Italia, crescita frenata in Umbria dalla guerra e dall'inflazione. Da Ceramiche Noi, un appello al commissario dell'Unione Europea, anche questo sarà un servizio di questa rassegna stampa, a Terni stoppa il cuoco col vizietto dello spaccio. Per lui è scattato l'arresto. Andiamo al messaggero, avviato il piano, partono gli SMS anti liste d'attesa, chiaramente parliamo di sanità, visite fissate già con la prescrizione del medico, quindi senza passare ulteriormente per il CUP e comunicate sul cellulare. Perugia Auto KO e rabbia in Via Marzia con dei volantini contro l'assalto dei vandali alle auto parcheggiate e nel Ternano nasce con lesioni cerebrali condannata la ginecologa. La Corte dei Conti stima un danno per l'ASL di 300 mila euro. A Terni ritrova la madre biologica dopo 60 anni. Foligno diventiamo il polo della moda, un'iniziativa che leggeremo nelle pagine di Cronaca e poi l'economia umbra più forte dell'inflazione. Andiamo a vedere allora qualcuna delle notizie in primo piano. Questa è la nazione. La sanità, la battaglia sulle liste di attesa, esami e visite si prenotano dal medico. La regione vuole snellire i tempi con due progetti. Uno si chiama Smart Cup che fa arrivare un SMS che comunica luogo e data dell'appuntamento. L'altro è quello della fissazione diretta degli accertamenti da parte dello specialista, cioè il medico che vi prescrive l'analisi specialistica prenota direttamente il posto senza dover poi passare per il CUP. Questo è il progetto. Specializzandi, vi ricordate il fatto degli specializzandi di neurologia che hanno accusato le dirigenze di essere vessati in procura. Il caso finisce anche in Parlamento. Intanto Tommaso Bori, consigliere regionale del PD, scongiurare la chiusura dei centri sanitari che operano nell'ambito del servizio dopo di noi. Andiamo avanti. La cronaca ha scoperto un cimitero di carcasse di auto. Siamo a Perugia dove la Guardia di Finanza ha individuato con un elicottero l'ammassamento abusivo di mezzi forse utilizzati come pezzi di ricambio. Questo per la cronaca e poi sempre di cronaca si parla. Una donna scoperta dagli agenti è stata denunciata. Guerra e inflazione frenano la crescita. Siamo alla Banca d'Italia dove è stato presentato nella filiale chiaramente di Perugia l'aggiornamento congiunturale sulla economia Umbra. Un pessimismo speranzoso. Questa è stata la parola che è stata utilizzata per definire la situazione attuale. Ma allora, prima proprio di andare avanti, fermiamoci sulla Banca d'Italia e vediamo nel dettaglio questo report. Nella prima parte del 2022 l'attività economica Umbra ha continuato a crescere in maniera sostenuta, favorita da una domanda robusta in tutti i principali settori. Nel primo semestre dell'anno il PIL regionale è cresciuto del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, in linea con l'andamento registrato a livello nazionale. Sono alcune delle analisi contenute nell'aggiornamento congiunturale sull'economia dell'Umbria elaborato dalla Banca d'Italia. L'indagine è stata svolta per singoli settori. Per l'attività industriale viene segnalata una ripresa con un aumento delle ore lavorate e una crescita del fatturato anche per effetto del marcato incremento dei prezzi di vendita. Sebbene in un contesto di domanda sostenuta, le attese degli imprenditori sono tuttavia significativamente peggiorate a causa delle tensioni geopolitiche e degli enormi costi energetici. Secondo i dati Sondtel, la spesa per le energie elettriche e gas è arrivata a rappresentare oltre un decimo dei costi totali per acquisti di beni e servizi per il 34% delle imprese. Il comparto delle costruzioni, malgrado le difficoltà di approvvigionamento, ha fatto registrare un'ulteriore espansione. Otto imprese su dieci hanno infatti segnalato un incremento dei volumi produttivi. Il superbonus ha continuato a stimolare l'attività di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Nonostante le diffuse difficoltà segnalate dal settore edile, soprattutto per la cessione dei crediti fiscali, oltre la metà delle imprese intervistate da Banca d'Italia ha rilevato un beneficio superiore al 33% sul proprio fatturato. Proseguita a ritmo sostenuto anche la ricostruzione post-sisma. I cantieri attivi o terminati relativi agli edifici privati sono aumentati del 13% rispetto alla fine del 2021. I servizi, in particolare quelli turistici, sono stati favoriti dal miglioramento della situazione sanitaria. Le presenze sono tornate su livelli simili a quelli osservati nel 2019, anche grazie al deciso recupero della componente straniera, segnando quasi un più 40%. L'aeroporto regionale ha fatto registrare flussi di passeggeri mai toccati in precedenza. Per il capitolo export, nel primo semestre del 2022, la crescita delle esportazioni regionali a prezzi correnti si è intensificata. Il contributo maggiore è stato fornito dal comparto dei metalli e da quello della metalmeccanica. Anche il settore dell'abbigliamento è tornato a crescere. Solamente le vendite di prodotti agricoli hanno registrato una diminuzione. Nell'indagine vengono anche analizzati l'occupazione, il cui tasso resta stabile, i consumi delle famiglie che si indeboliscono, il credito alle famiglie e alle imprese. Le previsioni per i prossimi mesi sono ancora molto indicative, ma guardano all'arribasso. Il progressivo deterioramento delle condizioni di offerta e l'inflazione, eccezionalmente alta, rappresentano un forte freno al futuro sviluppo del prodotto regionale. Proseguiamo con le pagine di interesse regionale. Famiglie senza casa si accende una lucina. Parla Piastrelli della Sunia CGL. La situazione è drammatica ora per tamponare l'emergenza. Contiamo sull'arrivo dei contributi nazionali. Quest'anno il fondo per le locazioni è stato aumentato di un milione di euro, ma di fatto aumentando le persone che ne hanno bisogno serve ancora di più ampliarlo. Siamo alle pagine regionali del Corriere dell'Umbria. Umbria cura i clandestini, ma lo Stato non paga. La Regione deve incassare oltre mezzo milione di euro per le prestazioni sanitarie ai migranti non in regola dal 2017 ad oggi. Il caso degli insulti agli specializzanti finisce con un fascicolo alla Camera. E poi, l'abbiamo visto, liste d'attesa, parliamo di sanità, prenotazioni senza andare al CUP. La frenata può attendere PIL al più 5,5% rispetto al 2021. Dal rapporto della Banca d'Italia la ripresa dell'attività industriale è proseguita. Rincari energetici e inflazione però hanno rallentato le aspettative. Partenza flop per il doppio cognome. A Perugia in quattro mesi solo il 5% dei bebè ha ricevuto anche il nome della mamma. A Terni il 9% delle coppie ha superato la tradizione. E poi aeroporto attivata, rotta per Cracovia. Biglietti già acquistabili sul sito di Ryanair. Sì, all'indagine di mercato per la nuova Turrenetta siamo chiaramente a Perugia. Questo per le pagine del Corriere. Andiamo al messaggero. L'economia dell'Umbria più forte dell'inflazione. Anche qui chiaramente parliamo del rapporto di Banca Italia. Intanto le famiglie fanno più debiti però e meno risparmi. Questo è un altro dei segnali da annoverare. Andiamo a vedere le home page dei principali siti internet. Lo facciamo con Umbria 24 che ci porta nel Ternano a Narni esattamente. Medico imprudente durante il parto viene condannata a pagare 300 mila euro all'ASL dalla Corte dei Conti. E poi Perugia Today, sanità in Umbria, liste d'attesa ed esami. Cambia tutto per il paziente cittadino. Prenotazioni l'abbiamo visto senza andare al CUP. E poi ancora stesso argomento sulla sanità da tuttoggi.info da trgmedia.it ci spostiamo nel territorio eugubino. Arriva la mostra con la ricostruzione delle macchine progettate da Leonardo Da Vinci. Queste le pagine in primo piano. Andiamo ora nel dettaglio allo studio dei singoli quotidiani. Partendo da il Corriere dell'Umbria. Deposito abusivo, l'abbiamo visto un po' nelle pagine regionali, di auto, rischio e inquinamento. Due imprenditori vengono denunciati per una discarica non autorizzata di 78 carcasse di auto e rifiuti pericolosi in via Settevalli. Il deposito è stato scoperto dalla Guardia di Finanza anche con l'aiuto di immagini aeree. Velimni divisi tra Roma e la Tuscia. La scoperta recentissima di questi giorni del santuario a San Casciano dei Bagni e siamo nell'area toscana, mette in luce l'importanza degli etruschi del fiume. A Collestrada screening gratuito contro il diabete. E poi siamo nell'area del Trasimeno, vino e olio per promuovere i due distretti del cibo Umbri. Si punta ai 10 milioni di finanziamento del Ministero. Il Vice Presidente della Regione Morroni dice che è una crescita economica e lavoro questa opportunità. Spara ai cinghiali e spaventa i cacciatori. L'abbiamo intravista questa notizia nelle pagine regionali. Siamo ad Assisi. La polizia ha denunciato un uomo di 78 anni che ha sparato a dei cinghiali che erano entrati nella sua proprietà ma ha spaventato i cacciatori che erano impegnati in una battuta di caccia al cinghiale. All'uomo sono stati sequestrati tre fucili, 92 cartucce e la licenza del nipote. E poi domani inaugurazione ad Assisi di una stanza tutta per sé alla Caserma dei Carabinieri mentre a Todi nuovo ascensore e realizzazione al Via. Conclusa la gara per l'assegnazione dei lavori da 2 milioni e mezzo di euro, l'impianto da Porta Orvietana ai Giardini Oberdan. Sempre a Todi scuola estiva internazionale per parlare della gestione dei rischi e poi consegnate a Marsciano le borse di studio Sargentini. Ci spostiamo in Alto Tevere. Organizzazioni criminali straniere come i mafiosi. Un fenomeno ancora sottovalutato secondo il procuratore capo Raffaele Cantone che ha presentato il suo libro a Città di Castello. Creano welfare con le stesse modalità. È morto a 79 anni Pasquale Baruffi, firma storica del giornalismo Tifernate, ha ricevuto premi e riconoscimenti, il cordoglio del sindaco di Città di Castello al quale si unisce anche TRG. Pasquale nella seconda metà degli anni 90 fu un preziosissimo collaboratore di questa emittente e quindi ovviamente alla sua famiglia, la nostra vicinanza. Ceramiche Noi a Bruxelles incontra commissario europeo. Tra poco ne parleremo in un servizio. Auguri del premier Meloni a mamma da record Benedetta Santoro si è laureata a Perugia e poi di corsa è andata a partorire in Alto Tevere. Auguri anche da parte nostra. Fiere di San Florido, la tradizione resiste, si parte da oggi per il fine settimana. Finanziati a Umberti dei lavori al cavalcavia di Madonna del Moro, costo dell'opera 800 mila euro. Centrale dello spaccio con valida dell'arresto per due dei tre fermati. Ma torniamo a questo titolo di Ceramiche Noi. Ormai l'abbiamo imparati a conoscere questi bravissimi artigiani che con il loro esempio di resilienza alle difficoltà hanno anche incuriosito positivamente, chiaramente, la presidente UE del von der Leyen. E allora adesso per loro proprio una ribalta anche a Bruxelles. Mitigare l'impatto della crisi energetica sulle aziende per garantire la competitività delle imprese europee. Questa è la richiesta della cooperativa Ceramiche Noi a Nicola Smith, commissario europeo per il lavoro ed i diritti sociali durante il panel dal titolo la dimensione sociale della transizione verde nel forum europeo sull'occupazione e i diritti sociali organizzato da Bruxelles dalla Direzione Generale per l'Occupazione agli Affari Sociali e l'Inclusione della Commissione europea. La cooperativa Umbra si è confrontata sul palco con il commissario dell'Unione europea, con i rappresentanti istituzionali e giovani interessati alla transazione verde. Essere qui oggi in rappresentanza di cooperative aziende, dice Lorenzo Giornelli, direttore commerciale e amministratore della cooperativa, ricevere i complimenti direttamente da Schmidt significa che forse qualcosa di buono lo stiamo facendo tutti. Il commissario europeo in risposta ha espresso gratitudine e complimenti alla cooperazione, sottolineandole la solidità in un momento di crisi e lodandone il modello funzionale diverso dai soliti canoni. La storia della cooperativa associata a Lega Coop parte nel 2019, quando il vecchio proprietario aveva comunicato la delocalizzazione in Armenia. Messe di fronte alla possibilità di perdere il lavoro, si sono uniti in una cooperativa diventando dei worker buyout, acquistando i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittando i capannone. Si sono tatuati sulla pelle il logo aziendale, per sottolineare la consapevolezza della loro scelta con lo slogan «Tutti per uno, un sogno per tutti». Hanno così riconquistato i vecchi clienti, raddoppiato la forza lavoro e il fatturato, affrontato una pandemia fino ad arrivare al cuore delle istituzioni europee. Ad accompagnare Marco Brozzi, presidente di Ceramica Noi, e Lorenzo Giornelli nel meeting di Bruxelles, c'erano i rappresentanti di CECOP, la Confederazione Europea delle Cooperative Industriali di Servizi, il presidente Giuseppe Guerini e la segretaria generale Diana Dovgan, insieme a Francesca Montarti, responsabile delle cooperative industriali di Lega Coop Produzione e Servizi. Siamo al Corriere, la pagina di Gubbio, bollette affitti aiuti per 880 mila euro, contributi alle famiglie che hanno visto peggiorare la situazione economica per la crisi. E in questo progetto c'è anche un taxi sociale gratuito per le persone svantaggiate. Restaurate il dipinto della chiesa di San Marco a Gubbio, la visione di Sant'Antonio da Padova. E poi, dopo un speciale dedicato dal Corriere quest'oggi al Mondiali del Qatar, si va sulla pagina di Gualdo Tadino, giochi delle porte, tempo di cambiamenti, i priori Gubbiotti e Farinacci, quindi Facondino e Martino, sono arrivate alla fine del mandato, ma ci sono novità attese anche a Porta San Donato. E poi il Bambino e la Formica, venscena al Don Bosco domenica 27, nuovo appuntamento con la rassegna teatrale per bambini per Fossato di Vico. Oggi pomeriggio un incontro con le forze dell'ordine per imparare a prevenire le truffe. Siamo a Foligno, variante sud, ultimi quattro sondaggi, nuove indagini geognostiche per il progetto definitivo, rilievi in via Innamorati, Maceratola, Cave e Ponticello. E poi in alto, teme un furto di gatti e chiama la polizia, gli agenti hanno chiarito l'equivoco, si trattava di una volontaria che stava recuperando randagi. E poi Gubbini, Innocenzi, Melosso in corsa per il miglior cavaliere d'Italia, partecipano all'evento, ben 44 giostre storiche. Ancora a Foligno, all'Auditorium Santa Caterina, allo stile delle boutique Folignati, l'ideatrice di Winter Fashion Day, Candolfo, dice torniamo ad essere un centro della moda. L'appuntamento è per domenica pomeriggio alle 16.30 con una inedita versione invernale di Fashion Week. Le ruspe sono al lavoro per demolire a Foligno la succursale del liceo scientifico. E poi ancora andiamo a Spoleto, la maggioranza si ricompatta sul supermercato, nulla osta del Consiglio Comunale per l'area di via Caduti di Narsiria, in arrivo anche 38 parcheggi pubblici. Corso propedeutico di giornalismo, Walter Tobagi oggi al via, sarà la guerra, l'argomento di apertura. E poi artisti e spettatori a tavola insieme per gustare le prelibatezze locali. Nuova occasione di promozione per il territorio con Eno Gastronomia a teatro. Andiamo ancora a parlare delle pagine spoletine, grifoni sull'ospedale, no a proteste sterili, ma aspettiamo l'attivazione del terzo polo. E poi sperimentare per la scuola la storia del costume al liceo artistico Leonardo, studenti a lezione con Clelia De Angelis. Siamo a Terni, un cuoco spacciava cocaina. Nuovi particolari sull'arresto a Terni di un 58enne, sorpreso dai carabinieri con lo stupefacente, e 1.600 euro in contanti. Denunciò una violenza sessuale, 17enne potrà testimoniare. E poi in Via Fratelli Rosselli, vende Ascisce, i finanzieri lo bloccano, lui li minaccia. Danni neurologici al neonato, l'abbiamo visto questo un po' nelle pagine regionali, 300.000 euro di risarcimento chiesti alla dottoressa che seguì il parto. Usura e distorsione a due imprenditori, alla sbarra finisce un'albanese che vive a Terni, e poi ritrova la madre biologica dopo 60 anni. La bella storia di una infermiera, Elisa Medei, che riabbraccerà la donna che la abbandonò in orfanotrofio nel 1962, un'ora dopo averla messa al mondo. è viva e vuole questa signora ora incontrare sua figlia. Ed è questo un momento che immaginiamo sia stato molto atteso. Tre ufanni, il liquidatore sarà convocato in comune, screening del diabete è stato un successo anche nella provincia di Terni. Infine, da Narni, Don Fabrizio benedice il cimitero dimenticato, a Taizzano, in mezzo alla vegetazione, c'è ancora un gruppo di sepolture abbandonate dal 1937 e il parroco gli ha reso omaggio. Ancora, patti pravo al Mancinelli, c'è la data il 4 febbraio, ovviamente siamo a Orvieto, è ancora Orvieto, torna a Natale, regalati Orvieto, con 60 eventi per tutti i gusti. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione e le sue pagine locali. E allora ripartiamo da Tutto Perugia, i luoghi invisibili, c'è tempo per scoprirli, palazzi, saloni, monumenti mai visti. E poi, ancora dalla Nazione, addio Bocciolini, coach dei campioni. È morta a 80 anni, il grande allenatore perugino di Pugilato, maestro di Giovanni Parisi e Gianfranco Rosi. In basso, Nuovo Curi, salta l'appuntamento fissato in comune. La riunione sarebbe servita per presentare il progetto di Massima, ma non mancano i rumors. Ancora per le pagine della Nazione, ci spostiamo nell'area del Trasimeno. Riflettori sul Museo Paleontologico di Pietrafitta. Il gruppo ecologista Il Riccio, domenica, guiderà gli appassionati in visita al prezioso contenitore e alla biblioteca di Città della Pieve. Questa è una veduta dell'interno del Museo Paleontologico di Pietrafitta che custodisce dei reperti molto rari. All'interno sono conservati reperti risalenti a due milioni di anni fa. Walter Beltroni, a Palazzo della Cornia, presenta La Scelta, che è un suo libro, e poi Passignano, giorno delle vittime della strada, nel segno di Andrea. La mamma di Nardini dice una strage che va fermata, ci sono morti ogni giorno. A Santa Maria degli Angeli l'abbiamo letta la notizia dell'uomo che ha sparato con il fucile fuori casa ad un cinghiale e si è preso una denuncia. A Umbria Fiere, da oggi parte, fa la cosa giusta con oltre 140 stand. Un locale dedicato alla tutela di donne minori vittime di violenza sarà inaugurato domani all'interno della compagnia Carabinieri d'Assisi e poi Todi, Porta Orvietana, nuovo impianto di risalita, lavori aggiudicati a una ditta Umbra. Ci spostiamo, andiamo a Gubbio. Il comune assume con selezioni e concorsi. Si cercano un ingegnere, tre vigili urbani e istruttori amministrativi. Inoltre, e qui appuntiamo la nostra attenzione, chiude a Gubbio il laboratorio ceramico Buccheri, rabbia social, una perdita per la città. Tra poco un servizio. Da Gualdo Tadino, l'assessore Buccheri, abbiamo i fondi per attivare il taxi sociale. A Nocera Umbra, la prima edizione di Weekend d'autunno. Tra poco andremo a vedere il servizio dedicato al Buccheri, ma intanto, da Città di Castello, abbiamo già letto di Ceramiche Noi e di Cantone, che ha presentato il suo libro. Leggiamo delle fiere di San Florido e Retro, che tornano nel fine settimana. E poi, da Umbertide, giù le mani, dai laboratori di endoscopia e urologia. È quanto chiede, in una interrogazione sul futuro dell'ospedale umbertidese, il Partito Democratico. Ancora Umbertide, 100 candeline per nonna Bruna Massetti. Tanti auguri anche da noi. Da Foligno, Metanodotto, i consiglieri, parleremo con Snam. La questione dell'impatto ambientale a Colfiorito finisce in commissione a consigliare. Il dirigente della regione rassicura le prescrizioni saranno rispettate. A Trevi, un Natale a luminarie ridotte, così si fronteggia il Car Energia. a Foligno investiti sul territorio 35 milioni di euro. E poi, Bevagna, riconoscimento in memoria di Ercole Pisello ad Antonella Viola. Andiamo a Spoleto, nuova rotonda, progetto limato. Il comune ascolta i commercianti, il nodo dei parcheggi a pagamento in piazza Garibaldi preoccupa i negozianti. E a Spoleto, infastidisci i passanti, scatta la denuncia. Buona sanità, un ringraziamento da Foligno ai medici che hanno curato un paziente e poi da Terni l'emporio dei bimbi rischia la chiusura. Parla Antonella Catanzani, assistiamo ben 508 bambini, ma le risorse non ci bastano più. Speriamo di gestire il Natale, ma a gennaio sospenderemo l'attività. Intanto, a Terni c'è il taglio del nastro dell'area commerciale Il Tulipano. L'imprenditore Marcangeli è un segnale di rinascita. Fermato con la droga un cuoco che è stato arrestato, indotto AST in bili con 1500 posti di lavoro, dunque seria preoccupazione, Orvieto tentata truffa ad un'anziana vedova, i malviventi cercano di farsi consegnare 3000 euro inserendosi nelle sue comunicazioni telefoniche. Nuovo polo di infanzia a Porano via libera grazie ai fondi del PNRR e poi per le notizie di tempo libero e quindi di cultura andiamo a parlare di tournée la stagione delle meraviglie viaggio trasversale tra maestri e nuovi idoli dei social con musica teatro stand up comedy dieci città coinvolte tante collaborazioni tournée coinvolgerà i comuni di Perugia Sisi Fossato di Vico Gualdo Tadino Narni Montefaico Panicale Spello Spoleto e Trevi questi sono alcuni degli ospiti che potremo vedere con Germano e Teardo il paradiso è a Solomeo viaggio tra parole e musica al teatro Cucinelli e ancora una stagione di grande qualità siamo ad Assisi con 12 appuntamenti per tutti i gusti il piccolo teatro degli stabili festeggia così i suoi primi vent'anni prima di passare al messaggero facciamo un passo indietro stiamo parlando di cultura e che cosa c'è di maggior esempio di cultura se non la tradizione umbra che viene rappresentata mirabilmente da un particolare tipo di ceramica il buccero ce ne sono più davvero poche di realtà in Italia che lavorano questo materiale pochissime che utilizzano questa tecnica ceramica Gubbio è una di queste ed un laboratorio del buccero che in città è assolutamente storico oggi rischia di dover chiudere anche se la volontà non è assolutamente quella tra via della Repubblica e via Savelli della Porta un negozio di buccero a Gubbio c'è sempre stato almeno negli ultimi cento anni per 50 di questi è stato al civico 1 di via Savelli vicino alle scalette di via Lucarelli prima aveva trovato sede in altri locali nell'area dello slargo di San Giuseppe a breve questa bella tradizione ugubina che era anche una vetrina di qualità per chi saliva da via della Repubblica rischia di non esserci più gli artigiani della bottega Antonio Rossi eredi di una tradizione di famiglia passata da Antonio ai figli ai nipoti a breve dovranno lasciare il civico 1 un locale di proprietà comunale che scaduta la locazione è stato riassegnato mediante bando di gara 2300 euro la base d'asta per il canone anno un importo non particolarmente oneroso che il comune ha deciso di affidare attraverso gara pubblica 100 punti a disposizione con 60 di questi assegnati in base all'offerta economica più vantaggiosa per l'ente pubblico 30 in base alla proposta progettuale concernente nella valorizzazione delle tipicità locali e della tradizione ugubina nella disponibilità ad orari di apertura flessibili in interventi manutentivi dell'immobile i residui 10 punti venivano assegnati in base all'esperienza maturata nella gestione di attività similari il bando ha premiato un altro progetto legato ai prodotti tipici con il buccero che dovrà trovare un'altra sede la signora Adelaide che ha in cura il negozio ereditato dal marito Gaetano Rossi non si arrende l'attività non chiuderà ma ora bisognerà trovare un'altra sede fatto tuttavia non scontato in una realtà come Gubbio dove ci sono locali sfitti ma con costi non necessariamente accessibili per un'attività artigianale di questo tipo la cui frequentazione non è paragonabile al settore del food resta negli attuali concessionari l'ammarezza espressa dalla bottega Rossi in un post affidato ai social se ne va così scrivono il laboratorio di via Savelli della Porta un negozio storico per noi è un punto di riferimento da oltre 50 anni per la comunità eugubina il post ricorda il ruolo di elevazione dell'immagine della città svolto dalla bottega quale luogo di attività artistica negli ultimi tempi scrivono le difficoltà sono state tante tuttavia si è sempre deciso di mandare avanti quello che è un pezzo di storia dell'artigianato italiano riconosciuto anche in sedi internazionali questo evento ci colpisce ancora ma ancora una volta proveremo a rialzarci e ad andare avanti a presto e allora davvero auguriamo alla bottega rossi di trovare altri spazi e di continuare questa felicissima tradizione che davvero appartiene certamente agli ogubini ma al popolo umbro insomma quindi non perdere questa importante raffinatissima lavorazione siamo al messaggero disabili prigionieri del degrado la denuncia di Ottavio Dorillo presidente dell'associazione non vedenti tra via Settevalli e via Ricci area verde piena di trappole e un sovrappasso chiuso casa o cliniche private si muove la maggioranza Perugia e poi per il parcheggio dell'ospedale Giombini sfida il DG di Filippis si tratta di una battaglia del project financing cancro laringeo funzionano gli eventi per lo screening tra la popolazione e poi cari bandali vi abbiamo denunciato siamo sempre a Perugia in via Marzia dove i residenti esasperati dai danni alle auto hanno affisso dei volantini per bloccare le scorrerie notturne dei balordi all'angolo con Piazza Italia davanti alla fonte Lomellina ci sono due telecamere che possono aiutare le indagini prende per il collo la ex braccialetta elettorale per controllarlo e poi cimitero di auto in via Settevalli abbiamo visto che la finanza lo ha scovato abbiamo anche letto da Santa Maria degli Angeli dell'uomo che ha puntato i cinghiali e rischiato di sparare ai cacciatori Umberti della banda dello spaccio quella che è stata i tre arrestati non risponde al magistrato Gubbio bonus e bolletta in busta paga così aiutiamo i nostri 25 dipendenti l'iniziativa è della Edil System SRL un 200 euro in più nello stipendio di ottobre Cantone è decisivo il valore della trasparenza lo ha detto presentando il suo libro a Città di Castello anche il messaggero ricorda il giornalista Pasquale Baruffi Ancora Metamorphosi siamo a Perugia Metamorphosi di Fashion Arte e Design allo spazio c'è che poi Tournée lo abbiamo visto si comincia il 9 dicembre musica reading lo show è servito in tutta l'Umbria Foligno è la città diventi polo della moda l'idea lanciata dalla stilista Candolfo che per domenica propone un appuntamento dell'It all'auditorium Santa Caterina va in scena il day dedicato alla winter fashion appuntamento alle 16.30 attivati tre ecocompattatori a Foligno e poi Andrea Ponti confermato priore del rione Croce Bianca donazioni di plasma bene il servizio pomeridiano in ospedale Spoleto rotatoria viabilità da rivedere le riserve dei commercianti al centro dell'acceso incontro con il comune e fa discutere il nuovo accesso in piazza Garibaldi ieri consegnati i lavori per due volte non rispetta il foglio di obbligatorio c'è di nuovo la denuncia e poi via libera a Spoleto a un nuovo supermercato vicino alla bretella arriva It il nuovo formato della gastronomia che fa spettacolo a Spoleto al teatro Caio Melisso Terni luminaria di Natale caos nuovo bando e date spostate riparte solamente ora la gara per assegnare il montaggio delle luci acciaierie appalti verso la scadenza timori per il futuro donne in agricoltura un convegno al caos ha sancito una situazione di svantaggio e poi c'è il cuoco sorpreso a spacciare cocaina ancora per la pagina del messaggero l'abbiamo già letto e dunque leggiamo solo il titolo neonato con lesioni cerebrali per una gilecologa è stato richiesto maxi risarcimento ospedale di Narni entro breve tempo tornerà a funzionare il pronto soccorso villa Morandi siamo su quella villa a sbalzo sulla cascata delle marmore il mecenato è noceta dice un museo per ricordare mio figlio e poi Terni si scopre città d'arte da Caravaggio a desiderio boom della mostra alla fondazione Carit sul Caravaggio e Caravaggeschi sono stati superati 5.000 visitatori tour culturale che fa tappa anche al caos a Natale regalati Orvieto sulla Rupe una lunga serie di eventi Ternana ritrova la mamma biologica dopo 60 anni l'abbiamo già visto e allora apriamo le pagine di sport lo facciamo con il messaggero sfortuna grifo struna già K.O. per lo sloveno appena arrivato lesione al bicipite femorale tornerà a fine anno febbre invece per Curado e Beghetto Matos ne avrà per ben due settimane la statistica nelle ultime quattro gare un passo che garantirebbe la salvezza c4 Petterini avanti così niente rivoluzioni e poi stadio la sfida del patron il presidente Bandecchia annuncia una novità voglio avvicinare subito almeno una curva al campo dopo il pressing dei tifosi che chiedevano un impegno è arrivata la risposta sorpresa che ha spiazzato tutti Orvietana altro match per la salvezza la partita contro il Seravezza si gioca in anticipo Almuzzi per il disinnesco della bomba che domenica sarà insomma un problema reale una bomba trovata ad Orvieto lungo l'autostrada che bloccherà sostanzialmente il traffico e poi Narnese la forza del gruppo per la finalissima questo era il messaggero andiamo al Corriere dell'Umbria le sue pagine di sport partono dal volley Sir a quota 11 vittorie Anastasi soddisfatto dopo il 3 a 1 di Ancara ma ammette ci hanno messo in difficoltà il collare d'oro del coni a Giannelli e Russo dopo il recente trionfo ai campionati mondiali e poi ancora dal Corriere parliamo di calcio Grifo delusioni e sorprese bilancio alla sosta Gori parte male poi si riprende ok dell'orco sgarbi in calo in attacco applausi per Melchiorri Olivieri in difficoltà in mezzo si viaggia tra alti e bassi struna lesione al bicipite femorale rischia un mese di stop e poi il bomber assisiate Brunori nella top 10 del Palermo Castagnini dice può arrivare in serie A ancora dal Corriere Fere il calendario è tosto da qui al giro di Boas contro i playoff il Benevento capolista e squadre a rischio alla ripresa c'è la trasferta di Pisa 13 punti in 7 gare imbattuto con D'Angelo in panchina pattinaggio a rotelle un successo World Skate Alessio Rossi in Trentino si allena sul ghiaccio e poi Terni test in famiglia con Sereti alla primavera qui chiaramente stiamo ancora parlando di calcio e di calcio parliamo con il Gubbio vulnerabile sui calci piazzati ora scatta l'allarme tre gol subiti nelle ultime due gare con Re Canatese Padova a Lucca servono correttivi l'Orvietano anticipa l'Under 15 Lega Pro a Casterrigone e poi tutti i risultati delle partite di ieri ancora dalla serie D Città di Castello rialziamoci Calderini dopo i tre K.O. di fila dice non è tempo di fare chiacchiere ma dimostrare il nostro valore sul campo in promozione Girone A cambio sulla panchina dell'FC Cipolla esonerato siamo chiaramente a Città di Castello al suo posto la società si affida a Valerio Bendini in basso per il podismo pink ambassador d'applausi traguardo speciale a Ravenna per le perugine guidate da Coccerossi e da Città di Castello parliamo di biliardo bar millefiori super nelle boccette due team in A per la realtà tifernate chiudiamo con le pagine di sport che arrivano dalla Nazione e allora Grifo Tegola Struna fuori almeno un mese il centrale arrivato da svincolato per dare solidità alla difesa si è infortunato martedì lesione al bicipite femorale della coscia destra il mercato parla il DS la classifica non rispecchia il valore della squadra in serie C gubbio fuori dalla coppa tante assenze per la trasferta di domenica a Lucca Sir Perugia punteggio pieno grande risposta del gruppo parla il tecnico anche se la gara dice è stata complicata la Bartocini Perugia fa retromarcia l'Azic siamo dispiaciute ma ci rifaremo per il calcio di serie B la ternana ritrova Palumbo e Cassata e poi Narnese in finale il presidente Garofoli dice sul raddoppio mi sono commosso questa è l'ultima notizia per le pagine sportive e allora si chiude la prima parte di questo TG mattino ma restate con noi perché tra poco prenderemo il caffè insieme ma nello specifico non prenderemo proprio il caffè si avvicinano le festività natalizie ognuno di noi ha sicuramente qualche ospite in casa magari in una cena o in un pranzo particolare e allora con i sommelier dell'associazione italiana sommelier quest'oggi vi insegneremo le tecniche di bon ton a tavola come si apre correttamente una bottiglia come si versa correttamente un vino quali bicchieri sono più adeguati a seconda delle tipologie di vino insomma una puntata del caffè da non perdere a tra poco